La ginnastica, il tuo sport conquista un titolo mondiale, si conferma, è una bella cosa. Sì, abbiamo un momento molto importante e bello della ginnastica ritmica, che ha vinto un altro mondiale in casa della Tana del Lupo, proprio a Mosca. Sono state davvero meravigliose. A breve avremo i mondiali di artistica maschile e femminile a Rotterdam, vediamo di far bene anche lì, ci proviamo insomma. Certo è che è un momento molto felice, siamo con Cristina Cimino, Circolo Sportivo Italia. Noi improvvisiamo sempre, ma oggi siamo rimasti colpiti, perché c'è un gruppo di bambine fantastiche, molto brave. Sono contenta, sì, alcune proprio nuove acquisti che sono arrivate quest'anno. Altre sono un po' più vecchiette, che vengono vecchiette come anni di lavoro, perché l'età è giovanissima, che fanno ginnastica da noi da 2-3 anni. E stanno in preparazione per delle gare del 2011, gare in settore giovanile, sperando che in un futuro facciano una buona carriera anche con gare più importanti. In questa trasmissione noi abbiamo sentito anche il grande Yuri Kegi, che abbiamo intervistato, al quale abbiamo chiesto un parere su questa conferma nella ginnastica femminile, di nuovo un titolo mondiale. Il vostro movimento è sano? Sicuramente, la ginnastica ritmica aspettava tanti anni in questo momento, perché secondo me è uno sport prettamente femminile, armonico, è un qualcosa di molto bello, che andava valorizzato e grazie a Emanuela Maccarani, a queste fantastiche ragazze della nazionale italiana, siamo riusciti a farlo conoscere in tutta Italia, perché era uno sport che non era per niente conosciuto e non era giusto. Parliamo, ultima considerazione sul Circolo Sportivo Italia, questo circolo che si trova in Via della Bufalotta e oltre al tennis, salutiamo Luciano Baglioni, un grande nome in questo sport, a questo bel vivaio, sei soddisfatta? Io sono contentissima, anche perché sono pochi anni che la ginnastica ritmica è nata qui all'interno del Circolo Sportivo Italia, ha preso benissimo, sono bambine, a parte è un bellissimo gruppo, perché oltre che essere ginnaste sono amiche, quindi sono invidie, rivalità. E in più, nelle gare fanno la loro figura, siamo arrivate anche in un settore federale, dove ci sono bambine che gariggeranno fra poco in serie B, abbiamo delle ginnaste che si sono qualificate per la nazionale, abbiamo un vivaio di piccoline, tra cui la figlia di Alessandra, che è sotto sorveglianza nel settore giovanile tecnico federale, e quindi grosse soddisfazioni. Bene, congratulazioni davvero e congratulazioni a queste bambine che stanno al di là dei risultati, svolgendo un lavoro molto importante per la loro crescita, abbiamo visto esercizi di coordinazione e di flessibilità, mobilizzazione della colonna vertebrale, insomma qui tutto viene assolutamente interessato, quindi un grande lavoro e soprattutto complimenti, perché come tanti campioni tu poi non ti sei messa a seduta, ma hai raggiunto l'apice, addirittura partecipando alle Olimpiadi e ora sei qui a dare i tuoi preziosi consigli, questo ti fa veramente onore. Grazie. Cristina noi ti salutiamo, ti lasciamo alla lezione e ovviamente come sempre guardando la telecamera, le nostre bambine dal Circolo Sportivo Italia salutano i telespettatori. Un grande saluto al vostro team, applauso bambini, applauso e in bocca al lupo.